Che si appassionino a qualcosa, che mettano entusiasmo in un ambito. Che siano sani e soprattutto speriamo che riescano ad arrivare all'autonomia. Che si realizzi nel lavoro e che ne trovi uno che lo faccia felice. Che possa avere una vita sua. Ma quando ci si trova davanti a un dolore, a una difficoltà, affrontarla con coraggio. Riuscire a fare più cose possibili per riuscire veramente a trovare la sua strada. Autonomia, crescita, voglia di scegliere. Qui dentro c'è Pietro. Il giorno diventerà grande, spero sempre però che una particina di lui rimanga piccola, nel senso un sognatore. Ho una figlia con la sindrome di Down. Francesco è il primo genito e mio figlio che ha la sindrome di Down. Io sono papà di tre ragazzi, Cecilia e Sara Enrico. Sara è una ragazza con sindrome di Down, ma non vedo perché per lei dovrei avere sogni diversi dagli altri due. Avere un lavoro dove lei sa anche della considerazione. Voglio crederci, voglio sperare insomma che il loro futuro sia anche un futuro lavorativo. Colora dei pellami per costruire poi delle borse o delle scarpe. Tutti i giorni mi ripete, io adesso vado a lavorare, presto potrò avere uno stipendio e quindi ciao mamma, ciao papà. Quando è arrivata l'occasione di provare con Geox for Valemur è stata una cosa veramente esagerata per noi. Per lui è stata un po' una realizzazione della sua formazione scolastica. E quando mi consigliano una busta paga è al settimo cielo. L'hai fatta tu questa? Sì. Sì, edo io, edo io, edo io, edo io, edo io. Grazie.